Sarà presentato questo venerdì al Circo dei lettori di Torino un nuovo lavoro su Luigi Tenco, un nuovo libro, ma un libro molto particolare. Non va ad analizzare la discografia o la vita artistica o la biografia dell'autore Alessandrino Genovese, ma va a prendere un punto di vista molto particolare, che è quello dell'ultima settimana di vita di Tenco, per andare a cercare scoprire cos'è successo quell'ultima fatidica sera. L'autore di questo volume è Ferdinando Molteni, giornalista e scrittore che abbiamo con noi questo pomeriggio. Buon pomeriggio Ferdinando Molteni. Grazie, grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Questo non è però il primo lavoro su Luigi Tenco, tu avevi già prodotto uno sceneggiato televisivo, se non sbaglio, su Tenco. Sì, in realtà una puntata televisiva condotta da Massimo Ghini nella serie Delity Rock, che era una serie curata dall'amico Ezio Guaitamachi, che è andata in onda su Lei 2. E poi, qualche tempo dopo, ho fatto un monologo teatrale per un altro attore romano, che si chiama Roberto Tesconi, anche lì dedicato a Luigi Tenco. Dicevo che questo libro racconta un punto di vista molto particolare e insolito per raccontare Tenco. Tu hai scelto di raccontare solamente cosa è successo quell'ultima settimana, in particolare quell'ultimo giorno, con lo scopo di andare a scoprire cosa davvero è successo, perché tu sostieni che non tutto si sa. Ma non tutto si sa, semplicemente perché chi ha lavorato su questo argomento negli anni ha fatto, non dico un po' di confusione, ma comunque ci sono stati testi, libri che hanno alimentato leggende, hanno alimentato punti di vista che non erano suffragati dalla realtà dei fatti. Io ho semplicemente fatto il mio mestiere di cronista. Sono andato a rivedermi, a rileggere tutto quello che era stato scritto allora, soprattutto il giorno dopo, due o tre giorni dopo il fatto, e ho messo in ordine le vicende, i fatti stessi. Ne è venuto fuori un quadro effettivamente piuttosto nuovo di quello che è accaduto a Sanremo nella notte tra il 26 e il 27 gennaio del 66. Ho semplicemente fatto questo. Alcune risultanze di questo lavoro sono effettivamente piuttosto nuove e anche per alcuni aspetti sconcertanti. Non hai fatto solo un lavoro di archivo perché sei andato anche a intervistare persone che c'erano all'epoca e che finora forse non avevano ancora raccontato quello che sapevano? Sì, ho parlato con moltissimi protagonisti, però ho cercato di non utilizzare queste interviste nella ricostruzione storica. Ho cercato di trarre dalle persone che ho sentito informazioni che potessero essere utili, ti ripeto, alla mia ricostruzione, anche perché sono convinto che nella vicenda Tenco ci siano coinvolte persone che negli anni non hanno parlato, sono rimaste piuttosto nascoste e quindi ho raccolto, ripeto, alcune informazioni che sono state utili poi al mio lavoro di ricostruzione. Tra questi appunto ci sono tanti dei protagonisti di allora, ma anche giornalisti che negli anni si sono occupati di questa vicenda che devo dire mi hanno dato anche delle utili. Tu sostieni che non tutti quelli che c'erano, molti anche dei suoi amici, hanno raccontato tutto ciò che sapevano e sostieni anche però che chi c'era ha un po' maldestramente anche mischiato le carte? Non c'è dubbio, io credo che intorno alla morte di Tenco ci sia stata una sorta di tacita congiura del silenzio o forse un tacito patto finalizzato al depistaggio. La morte di Tenco è stata, come dire, poteva essere devastante per alcuni personaggi, in primis indubbiamente Dalida e io credo che le persone che hanno contribuito a creare questa cortina di fumo intorno alla vicenda avessero come fine sostanzialmente quello di tutelare la figura, l'integrità artistica, morale, umana di Dalida. Quindi molti hanno lavorato, diciamo, non dico tanto nel depistaggio quanto nel creare, ripeto, questa cortina fumogena. Tu nel libro non dici mai esattamente è successo questo, dai delle colpe, però è evidente che leggendo il libro si capisce benissimo cosa molto probabilmente è successo, cioè che non è intanto un suicidio ma è un omicidio e lasci anche intuire quali potrebbero essere i motivi. Sì, sicuramente io non parlo esplicitamente neppure di omicidio, però sono convinto di una cosa, non si è trattato di un suicidio. Diciamo che il range delle ipotesi va dal suicidio, dalla morte accidentale all'omicidio, in mezzo ci stanno, come dire, molte sfumature, molte possibilità. Quello che ho cercato di ricostruire, credo di essere stato il primo a farlo, penso che anche i colleghi che se ne sono occupati me lo riconoscano, è quello di aver individuato tutte le persone che furono coinvolte direttamente o indirettamente in questa vicenda nelle ore che passano tra la fine del festival, cioè tra la fine della serata del festival dove Luigi Tenko conta e la sua morte. Sono abbastanza certo di aver individuato tutte le persone che erano intorno a lui nel momento in cui lui è morto o comunque negli istanti immediatamente successivi. E soprattutto la ricostruzione temporale in questi ultimi istanti rende evidente alcune cose e rende anche evidente, è banale chiedersi come mai nessuno ci avesse pensato, fare il calcolo del tempo che ci vuole dal ristorante all'albergo, cose abbastanza banali per uno che dovrebbe fare questa cosa di mestiere tipo un maresciallo. Mi fa piacere che tu dica questo, in effetti allora nessuno lo fece, l'ho fatto io dopo quasi 50 anni, perché anche io sono andato spogli, ho cercato di ricostruire i vari percorsi che sono rimasti esattamente gli stessi, perché esiste ancora la struttura dell'albergo Savoia dove lui è morto, esiste ancora il luogo dove c'era il ristorante dove lui è andato a cena, quindi ho ricostruito tutti i passaggi, ma sai all'epoca nessuno aveva interesse a sposare una tesi che fosse diversa da quella del suicidio. E il motivo secondo te per questa tesi? E' semplicemente perché era necessario salvare Dalida, salvare quell'entourage di uomini molto potenti, mi sono esplicitamente ricordati nel libro, che avevano tutto l'interesse affinché la vicenda di Luigi Tenco si esaurisse nel giro di uno o due giorni, loro pensavano che con l'ipotesi del suicidio tutti si sarebbero accontentati, in realtà dopo 50 anni siamo ancora qua a parlarne. A parlarne e a presentare questo libro, ma non solo perché all'interno di questa serata, venerdì sera al Circo dei Lettori, non ti lamenterai a presentare il libro, ma anche a cantare, perché tu sei anche un cantante. Sì, in effetti queste cose vanno in parallelo, da molti anni mi occupo di canzoni d'autore insieme a una musicista che si chiama Elena Buttiero, che sarà con me anche venerdì sera, faremo alcune canzoni che abbiamo portato in giro per l'Italia e anche un po' in giro per il mondo, perché siamo stati quest'anno, solo per dirti, alla New York University a parlare di Tenco e a cantare le sue canzoni. Siamo rientrati dieci giorni fa dall'Argentina e dall'Uruguay, dove Tenco è ancora popolarissimo e conosciutissimo dal pubblico. Ogni volta che cantiamo le canzoni di Tenco è una scoperta e abbiamo adottato questa modalità, raccontare la sua storia, cercare di fare giustizia sulla sua vita, ma soprattutto valorizzare la sua grande arte, il suo grande talento. Ricordiamo allora l'appuntamento, questo venerdì, al Circolo dei lettori di Torino alle ore 21, la presentazione del libro L'ultimo giorno di Luigi Tenco di Ferdinando Molteni, presente alla serata ovviamente non solo per parlare del libro, ma anche per farci ascoltare alcune delle canzoni di Luigi Tenco. Grazie ancora a Ferdinando Molteni, buon lavoro. Grazie Giorgio, buon lavoro anche a te. Grazie Giorgio, buon lavoro anche a Ferdinando Molteni, buon lavoro anche a te. Grazie.